E' giunta la quinta edizione Liberi a Ragusa, incontri con autori ed editori BLEI. Il programma ricco di appuntamenti è stato presentato stamane nel corso di una conferenza stampa tenuta dagli organizzatori. Tra questi abbiamo intervistato Emanuele Cavarra. Siamo alla quinta edizione e quindi cominciamo a crescere anche noi e soprattutto vediamo che c'è un buon riscontro da parte della città e non solo della nostra città perché ricordiamo che Ragusa si intende la provincia di Ragusa. Quindi abbiamo il piacere di coinvolgere tutti i comuni o quasi tutti i comuni della nostra provincia. Ovviamente abbiamo i libri che fanno da protagonista, come dice anche il nome, perché Liberi con la E tra parentesi o Libri. Quindi l'editoria ovviamente è quella che la fa da padrona. Però abbiamo tutta una serie di eventi collaterali legati sempre alla cultura, come la musica, partiremo con un coro, un bellissimo coro proprio il giorno dell'apertura, giorno 4. Poi avremo anche del cabaret, tutta una serie di iniziative. Avremo addirittura anche una preparazione dal vivo di una granita secondo un'antica tradizione che è descritta in uno dei libri che sarà presentato.